Oggi abbiamo fatto il lavoro che dovevamo fare, abbiamo vinto la partita, siamo riusciti anche a dare di poso a alcuni giocatori, siamo entrati già primo tempo forte, abbiamo finito primo tempo più sette e niente, abbiamo fatto tutto, adesso bisogna recuperare, analizzare bene la prossima partita e dare il massimo. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata, ce l'abbiamo provato tutto, ma Bolzano ha dimostrato di essere ad un livello superiore al nostro, oggi il campo ha parlato, quindi continuiamo a lavorare per quello che manca del campionato. Noi affrontiamo ogni partita, poi vediamo quello che viene fuori, non ci riponiamo questi obiettivi. E' chiaro che ci piacerebbe fare la semifinale Scudetto, poi ogni partita la giochiamo giorno per giorno e vediamo cosa viene fuori.